Sono tornato da recente da un viaggio, 15 giorni di cui vi dico in sintesi estrema, qualcosa che secondo me sento centra pienamente con il discorso di questo pomeriggio. Invitato dalla Commissione Giustizia e Pace della Colombia e di Bogotà, sono stato a Chicago per un seminario delle comunità di resistenza dell'America Latina, che ho sentito dai racconti dentro di me ribadire una convinzione che da qualche anno sento presente, un intreccio sulla scena mondiale sempre più stretto, drammatico, fra capitalismo e militarismo. È un intreccio micidiano. In concreto, dentro la rata intere della Colombia entrano gruppi paramilitari, superarmati, cacciano le comunità, uccidono impunemente donne, bambini per piantare monoculture. Ad esempio la palma africana. Qual è lo scopo? Massimizzare i profitti, arricchirsi. Qual è l'esito? Si uccide, si ferisce e fa sì che le persone vengano mandate via dalla loro terra. In Colombia attualmente ci sono 3 milioni e 800 mila persone desplassate all'interno della Colombia, colombiani costretti a partire, che vanno poi a ingrossare le periferie disumane delle grandi città. Questo è quello che dicevi anche, questo modello di sviluppo cosiddetto provoca l'atomizzazione, la distruzione delle relazioni fra le persone e le comunità, distrugge il tessuto vitale di persone e di comunità. C'erano presenti anche gli indiani delle riserve del Canada, che testimoniavano la drammatica situazione, in cui ancora vivono, non solo per per i racconti che abbiamo noi sentito e che esprimevano nello stesso tempo una resistenza straordinaria e mi ha colpito soprattutto questo legame davvero straordinario alla terra, alla terra. Terra non solo come terra, come suolo, ma la terra come concezione delle relazioni con tutto l'ecosistema, un legame alla terra straordinario. Da lì ho ascoltato in quella sede testimonianze drammatiche di rappresentanti dei poveri, degli impoveriti degli Stati Uniti, che pensano il prossimo anno, quando saranno le elezioni, per la Convenzione Repubblicana di fare una grandissima manifestazione con un milione, un milione e mezzo di persone, perché i diritti fondamentali, quindi dentro anche al sistema, nel cuore dell'impero, ci sono situazioni distruttive della vita e dell'umanità. Da lì poi l'altra settimana sono volato in Bolivia. 15 giorni fa ero sulle Ande Boliviane a 4.000 metri e ho incontrato situazioni di una povertà incredibile. Incredibile. Il vescovo di Cociabamba, che è mio conterraneo, perché è nato a Pesaris, Don Tito Solare, un uomo davvero del Vangelo, mi ha detto, in lunghi colopi che abbiamo avuto, anche in un'intervista che gli ho fatto, ti dico un paradosso, Pierluigi. La Bolivia si trova in questa situazione di povertà, poi abbiamo parlato anche della novità di Evo Morales alla presidenza della Bolivia, si trova in questa condizione di povertà paradossalmente perché è un paese ricco, perché è un paese ricco e ci siamo un po' soffermati su questa situazione. Un segno che può far sorridere, può far sorridere, però è un sorriso ironico e quindi anche drammatico, diceva del controllo che c'è sulla Bolivia, faceva un confronto, io so questi dati per certo, in Messico all'ambasciata degli Stati Uniti lavorano 950 persone, ma in Messico credo abbia 130 milioni di abitanti, in Bolivia gli abitanti sono 9 milioni, all'ambasciata degli Stati Uniti in Bolivia ci sono 900 persone, questo uguale, controllo del territorio, delle ricchezze, minerali, acqua, eccetera. Questa è la realtà del mondo, 900 impiegati all'ambasciata degli Stati Uniti della Bolivia.